Potete risparmiare tantissimi soldi sui pacchetti, sulle ricariche del portafoglio, sui giochi di tutte le piattaforme di gioco e su altri servizi sempre scontati acquistando su Instant Gaming tramite il mio link nella descrizione, come ad esempio una ricarica del portafoglio di Playstation da 90€ al prezzo di 72,89€ col 19% di sconto. Bella Tutorchetti, sono Orcuverde, in questo video vi mostrerò come completare la sfida giornaliera Rane Toro Americani raccolte 0-2 su Red Dead Online. Nella clip apparsa ora che state vedendo in questo momento nel video vi sto mostrando tutti i punti di spawn delle Rane Toro Americani, tutte le zone evidenziate di rosso con i vari pallini neri sono i punti di spawn delle Rane Toro Americani dove voi dovrete recarvi. Per cercarle, quello che dovrete fare è uccidere due Rane Toro Americani e poi raccoglierle, quindi uccidete una Rana Toro Americani e poi la raccogliete. Facendo questo due volte completerete la sfida giornaliera ottenendo come ricompensa Oro e XP. Se non troverete subito le Rane Toro Americani recandovi nei loro punti di spawn vi basterà continuare a girare avanti e indietro nei loro punti di spawn che presto o tardi le troverete senza problemi. Quindi niente orchetti io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete il video per supportarmi. Se questo video vi è stato utile, se avete la possibilità, potete anche lasciare un bel super grazie al video come supporto extra. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto. Seguitemi su Twitch, su Instagram e su tutti gli altri social, troverete tutti i link nella descrizione. In più vi invito a dare un'occhiata alla playlist dedicata ai glitch di Red Dead perché lì troverete tutti i glitch presenti nella frontiera senza doverli andare a cercare nei video caricati, quindi nella maniera più comoda e veloce. E da Orkiverd tuttora ci vediamo al prossimo video, bella! Grazie a tutti!